In questo mondo di volti e parole, giorni cantati splendenti nel sole, ho incontrato angeli e fango, temporali e tempeste, diavoli e lampo. Sono Monio Vadia, io sostengo ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, campagna internazionale per l'abolizione delle armi nucleari. A ICAN è stato conferito il premio Nobel per l'importanza del suo magistero di pace, premio Nobel per la pace. Diventiamo tutti, insieme a ICAN, attivisti di pace, uomini di pace. La questione che è in campo è assoluta, è la questione della vita. La differenza tra chi combatte per l'abolizione delle armi nucleari e chi invece non fa nulla, è indifferente, è la differenza per chi vuole stare dalla parte della vita e chi invece accetta l'abbraccio della morte come condizione di esistenza. Dunque, sostenete questa campagna. Diventate attivisti della vita e non è difficile capire che cosa è in gioco. Siamo in gioco noi, ma sono in gioco i nostri figli, i nostri nipoti e i nostri pronipoti. E cominciamo dall'abolizione delle armi nucleari perché un giorno ci sia l'abolizione totale delle armi. In questo mondo di volti e parole, giorni cantati, splendenti nel sole, ho incontrato angeli e fango, temporale e tempeste, diavoli e lampo.